Ierta, una carriera molto lunga sugli sci, ci racconti un po' da dove sei partita qui dalle nevi di Folgaria e quali sono state le tue prime esperienze? Allora, io sono nata a Serrada, mio papà era maestro di sci e da bambina avevo tre anni, tre o quattro anni, ha incominciato a farmi sciare e mi portava con una corda da Serrada a Folgaria, io dietro bambina piccolina attaccata a una corda e mio papà davanti. Io ho incominciato, poi mi ha insegnato lui e poi ho fatto, facevo le garette qui dello sci club e ho fatto il primo trofeo soreghina, che forse non so se c'è ancora, ecco. A Mezzasilva c'era la caserma dei finanzieri, c'era il maresciallo Volcan. Ho fatto questo trofeo soreghina, avevo tre i dici anni, ecco, ho dato un fracasso di secondi alla seconda, proprio ho vinto con un margine altissimo e allora questo maresciallo mi ha presentata diciamo al Comitato Trentino e da lì mi è anche amata al primo allenamento, avevo 14 anni, sono andata al primo allenamento a Cervinia con le Azzurre, allora c'era Giuliana Minuzzo, c'era la Pelissie, la Carla Marchelli, la Pia Riva. E la partenza per questo primo allenamento da Folgaria fino a Cervinia come è stata? Questo primo allenamento, la partenza è stata che io non avevo mai visto un treno, non ero mai andata a Rovereto da sola e sono partita così, affidandomi non so a chi, sono partita con la mia valigia, col mio paio di sci, unico paio di quelli che non ti dico, la mia sacca con dentro gli scarponi, sono andato, ho preso il treno a Rovereto, ho cambiato a Verona, ho cambiato a Milano, ho cambiato a Novara dove sono andato in Val d'Aosta e poi a San Vensan ho preso la Corriere e sono andato in allenamento con le Azzurre, allora c'era Roberto Lacedelli come allenatore. Lì per me è stata una cosa terribile, terribile, io credevo di morire dalla nostalgia, non volevo assolutamente più andare a fare le competizioni, assolutamente, scrivevo lettere a mio padre perché il telefono non c'era, che io muoio di nostalgia e che io basta, non avrei più fatto nulla. 15 giorni sono passati, sono tornata a casa e mio padre mi ha detto, senti cara, qua ci sono due soluzioni, o vai a fare l'atleta, visto che hai anche, ero abbastanza brava, insomma, ha quegli anni là, adesso è tutto cambiato, ecco, o vai a fare la donna di servizio perché io non posso mantenerti, perché erano poveri, mio papà era immigrante, andava in Svizzera a fare il muratore, oppure vai a sciare. Allora lì ho pensato, ripensato, dico forse è meglio che mi abitui, ecco, poi ho cominciato ad andare in giro, ho cominciato le prime gare. E sono arrivati anche i primi risultati un po' alla volta? Allora un po' alla volta, sì, certo. Poi non sono stata convocata alle Olimpiadi di Cortina perché quando io facevo le gare rischiavo anche, non avevo la capacità tecnica, allora come da poter rischiare, quindi cadevo anche spesso in gara. E l'allenatore per punizione mi ha detto tu non fai le Olimpiadi per formarti il carattere. Le Olimpiadi di Cortina sono stata fuori dalla squadra per formarmi il carattere, il che da allora mai più mi sono ritirata, in nessuna gara, a costo di arrivare ultima. Dopo tante gare, tante gare importanti, le prime Olimpiadi, i primi campionati del mondo, ci racconti un po' queste esperienze? Nel 58 ho fatto i campionati del mondo a Bad Gastein, avevo 20 anni e c'era ancora Roli Marchi e mi allenavo su questa discesa, questa discesa libera e mi diceva Roli Marchi guarda che io ti ho vista, ti ho vista scendere in allenamento, guarda che sei in una forma splendida, c'è in una forma splendida e mi sentivo benissimo, veramente. Arriva il giorno della gara, parto, penultima, arrivo il numero 46 mi pare, eravamo in 47. Scendo, scendo, faccio una, mi sentivo bene, allora ho angelato tutta la pista con le gomme, con l'acqua, era molto fredda, era una lastra di ghiaccio, mi ricordo che le porte tutte scaletate, perché era un ghiaccio vivo, poi c'era uno schius in mezzo al bosco, poi c'era una diagonale con un salto terribile e poi c'erano alcune porte e poi c'era questo schius d'arrivo ripidissimo con due porte in cima direzionali, diciamo. Io ho fatto questa diagonale dove Tony Mark, Tony Mark, che era un campione austriaco, ha frenato prima di questo salto sulla diagonale, io non ho frenato, sono stata in piedi e sono stata fortunata. Poi sono uscita dal silenzio, dal silenzio, sono entrata dopo il bosco, c'era una piccola discesina, così, sono entrata sullo schius d'arrivo dove c'era una marea di gente. Io ho solo sentito urlare, ma urla pazzesche e con dei rami battevano per terra. Io non so cosa è successo, se mi sono deconcentrata, che quello penso sia stato, perché non so il motivo per il quale sono caduta, non lo so, ancora ora ci penso, alla distanza di tantissimi anni. Ecco, non so, insomma io sono caduta, ho perso la porta, sono tornata indietro appunto perché l'allenatore mi aveva dato una lezione di quelle che mi è servita tutta la vita, ho rifatto la porta, sono risalita e al traguardo sono stata avvolta da tutti, tutti, autografi, bambini, ho detto ma cosa fa? Ma perché? Ma perché? Poveretta, io proprio non pensavo allontanamente di cosa stavo facendo. Poi siamo preparati per le Olimpiadi. Erano gli Olimpiadi di quale anno? Del 60, di Squaw Valley. Gli allenamenti erano al mare 15 giorni, poi c'erano due allenamenti in novembre, ottobre-novembre di condizionamento fisico e poi c'erano due allenamenti di sci o al Sestriero o a Val Gardena e a Cervinia, questi qui erano gli allenamenti e poi si andava a fare le gare. È stata una cosa meravigliosa perché partire dai nostri posti e arrivare là in America è stata una cosa, sembrava essere, non so dove, in paradiso. Per tutto, per tutto, sono avanti, erano avanti di 40 anni rispetto a noi. Eccoli, ci siamo a Squaw Valley, ci siamo allenati, allora le piste venivano battute a piedi militari e tutti in fila, battevano queste piste a piedi, quindi le buche c'erano sempre, sempre. La prima gara è stata lo slalom gigante. A un certo punto ho perso il bastoncino, non so perché, insomma l'ho perso, sicché con un bastoncino solo sono arrivata al tredicesimo o quattordicesimo, non mi ricordo. Poi ho fatto la discesa libera e lì sono arrivata quinta, la discesa libera. E poi c'era da fare lo slalom e il mio allenatore mi ha detto guarda che adesso se tu riesci a fare una bella gara nello slalom vince una medaglia incombinata, sicuramente, perché avevo il quinto posto in discesa, la mia specialità era lo slalom e quindi io sono agitatissima in quella gara perché lui mi ha detto così, pensare che dovevo fare la gara, dovevo farla bene, perché dovevo vincere secondo lui una medaglia nella combinata, io sono partita e ho saltato la quarta porta. Me ne sono sentite non so quante dall'allenatore, ecco comunque sono arrivata a settima in combinata, aveva ragione che probabilmente avrei potuto anche vincere una medaglia nella combinata. Grazie a tutti.